Pompadure. L'acconciatura con i capelli alti sulla fronte ha un nome divertente, Pompadure. E anche se questo stile è apparso nel XVIII secolo, è diventato veramente popolare negli anni 50 del XX secolo grazie al re del rock'n'roll Elvis Fretley. I capelli nella parte posteriore della testa e sui lati devono essere accorciati, ma non troppo il cuoio capelluto non si deve vedere. I capelli sulla parte superiore non sono praticamente tagliati e sono pettinati delicatamente indietro, sollevandoli dalla fronte. L'acconciatura evidenzia i trai del viso e piacerà a coloro che seguono la moda. Undercut. Il taglio più popolare dello scorso anno non perde la sua rilevanza per la seconda o anche la terza stagione consecutiva. La nuca e le tempie sono rasate, i capelli nella parte sopra rimangono lunghi. La zona superiore è rettinata all'indietro, mentre i capelli si possono apponciare sia dritti che su un lato. Ma allora qual è la differenza con il taglio, pompadurra? I capelli sulla parte superiore sono più corti e le tempie sono rasate di più. Anche se in generale, Terelundercat ha tante versioni di taglio, molti sono simili con le stesse caratteristiche. In un modo o nell'altro, è già classico ma moderno. Men ban, sia anche agli uomini piace farsi lo chignon. Inoltre, ha il look davvero figo. Però non sembra affa femminile, ma molto, molto brutale. Il problema principale di questa acconciatura è farsi crescere i capelli lunghi. Ti diranno sempre quando ti taglierà i capelli. Ma se hai un obiettivo, non ascoltare nessuno. A proposito, questa acconciatura è già stata scelta da Jared Leto e Jake Gyllenhaal. Top not. Basta unire due tagli moderni. Men ban e undercut ed è pronto. Prima ti fai crescere i capelli lunghi e poi il barbiere ti rade delle tempie. Il taglio è interessante e stravagante gni, nello stile dei samurai giapponesi. Ed è solo per gli uomini più coraggiosi. Scriminatura laterale. Uno stile conservativo non significa vecchio. Una scriminatura laterale semplice così elegante continua a piacere a tanti uomini. Questo taglio è adatto per coloro che non sono pronti a sperimentare con i propri capelli. La regola principale è definire una scriminatura laterale ben chiara e pettinare i capelli uniformemente. Alcuni barbieri propongono inoltre a delineare la scriminatura con la macchina taglia capelli. Inoltre, si può fare una cascata leggera in modo tale che i capelli sembrino più voluminosi. Fade. Un taglio di capelli che si può definire come graduale. I capelli si allungano gradualmente dalla nuca verso la parte superiore. Forse questo è proprio il taglio di capelli che si dovrebbe scegliere per iniziare le trasformazioni all'ultima moda. L'acconciatura è adà per i capelli sia corti che più lunghi. Effetto trascurato. Gli uomini devono essere contenti. Lo stile naturale ad effetto leggermente trascurato va di nuovo di moda. Tuttavia, questo non significa che non si deve frequentare il barbiere per mesi. A volte creare un sexy caos sulla testa è molto più difficile dello stile curato undercut. Grazie. Grazie.